Tre punti che però forse valgono molto di più. Sì, arrivano in un momento di difficoltà, un momento di difficoltà societaria, però noi ci siamo uniti. L'ho sempre detto da quando siamo arrivati, siamo un grande gruppo e l'abbiamo dimostrato oggi. Contro tutte le difficoltà è tutto. Voglio dedicare questo mio gol e questa vittoria a tutti i miei compagni, a tutto lo staff e soprattutto al mister e al direttore sportivo. Ci siamo uniti contro tutti e adesso dobbiamo solo lavorare con grande umiltà come abbiamo sempre fatto finora e andare in qualunque campo d'Italia per vincere. Perché se forse migliora in campo, che ne pensi? No, mi vorrei fare un applauso a tutti i compagni. Non esiste il singolo in questa squadra, esiste il gruppo, esiste 20 ragazzi, 24 spettacolari, chi va in tribuna, chi va in panchina. E questa è la nostra forza e tutti uniti anche con lo staff e il mister. Ripeto, non abbiamo paura di nessuno.